Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi pomeriggio siamo tornati dopo tanti mesi a mostrarvi, perché è avvenuto il debutto ufficiale in una live by DS Automobile, di una nuova auto. La consuetudine recentemente, dopo il Covid, e tutto ciò che ha portato come conseguenza è quella di presentare principalmente le auto in modalità digitale, per poi successivamente farle toccare con mano a stampa e poi al pubblico in concessionario. E' avvenuto esattamente così oggi, 3 febbraio, per quanto riguarda il quarto modello della gamma di DS Automobile. Sto parlando ovviamente, come avrete capito dal titolo, della DS4. Come anticipato nel nostro consueto video dell'epifania sulle auto più attese dell'anno, in questo caso del 2021, anche la DS4 era ricompresa tra queste, un'auto di categoria premium, come tutti i modelli della casa francese, che unisce. L'innovazione tecnologica è il sourfair francese, punto. Esteticamente l'auto mantiene la personalità del brand francese, con nell'anteriore dei gruppi ottici simili al resto della gamma, che però in questo caso appaiono più sottili, con tre elementi LED all'interno e con delle funzionalità particolari, perché come nel lancio della DS7, che se vogliamo ha inaugurato il nuovo Family Feeling, abbiamo tre elementi LED che appunto ruotano con la funzione di Dynamic Bending Lights, ma anche una funzione intelligente di abbaglianti con appunto una tecnologia Matrix. Oltre a questo, in basso molto imponente, a forma se vogliamo DL, DS le chiama Wings, si trovano le classiche zanne del modello, con 98 LED al loro interno. Imponente non è certamente la griglia, al contrario di come stanno facendo le case tedesche. La francese infatti mantiene delle dimensioni modeste con una superficie nero lucido e degli elementi romboidali cromatiche che vanno a nascondere insieme al nero lucido stesso le telecamere e i sensori degli ADAS. In generale l'auto presenta molti muscoli a livello estetico, con delle nervature abbastanza pronunciate sul cofano che accompagnano il badge della vettura e della sua versione, ma anche delle superfici aerodinamiche per quanto riguarda la fiancata accompagnate dalle maniglie a scomparsa che quindi vanno a ridurre ancora di più la resistenza all'aria. C'è una linea molto interessante nel finestrino posteriore, vedremo tra l'altro come sarà pratico nella vita quotidiana perché una cosa è esteticamente, se vogliamo, artistico sulla carta ma tutt'altro è l'utilizzo daily, e anche una coda molto tagliente a livello sempre aerodinamico con un lunotto decisamente spiovente, celato da dei pannelli aerodinamici specifici del baule. Rimanendo nella zona posteriore della nuova DS4 si trovano tra l'altro i nuovi gruppi ottici LED dal design 3D. Un look generale della vettura che la fa apparire larga, dal tetto basso, con delle dimensioni di 4,4 metri di lunghezza e una larghezza pari ad 1,83 metri. La vettura, parlando di estetica esterna, viene offerta in due allestimenti, Performance Line, che è quella se vogliamo leggermente più sprint con un'anima più urbana, e anche Cross, che è quella un po' se vogliamo da gita fuori porta. In merito all'abitacolo invece i designer parlano di uno studio degli interni, tutto votato al raggiungimento della serenità degli occupanti, quindi una tecnologia innovativa ma non invadente, unita ad un design ricercato. Abbiamo un volante con un look piuttosto classico ed elegante, di display completamente digitali per gli occupanti, con tra l'altro un nuovo sistema operativo per l'infotainment personalizzabile, con un assistente vocale e anche con dei controlli specifici da un touchpad che si trova sull'importante tunnel centrale in pelle. Sempre all'interno di questo tunnel centrale si trova anche la console e i controlli del cambio automatico EAT8, che è praticamente identico, esteticamente parlando, ma anche a livello di funzionamento, a quello che abbiamo provato sulla nuova generazione di Citroën C4. Passando a parlare invece della plancia, troviamo una grande superficie tutta rivolta alla qualità dei materiali scelti, perché ci sono pochi elementi estetici, è tagliata unicamente in maniera trasversale da una fascia che presenta i controlli e si trova a livello di altezza sotto lo schermo dell'infotainment. A proposito di materiale di qualità interna, tutto ciò che è disponibile include pelle, alcantara, legno, cuciture a contrasto specifiche, ma anche delle superfici in alluminio o addirittura, novità totale per quanto riguarda di esse, del carbonio forgiato. Oltre a questa abbiamo due scelte per gli allestimenti interni in pelle, mono o bitono. Quest'ultimo è caratterizzato da una zona bassa, quindi per i passeggeri e la loro seduta in pelle chiara, e una zona alta dedicata più che altro ai controlli in pelle scura, quindi un bel contrasto. A proposito di personalizzazioni, torniamo un attimo a focalizzarci sulla carrozzeria, quindi sull'esterno della vettura. Le colorazioni disponibili sono oro cuivre, grigio lacchè, crystal pearl, grigio platino, rosso velvet, bianco nacré e anche perla nera. Fatemi sapere nei commenti qual è quello che vi attrae di più. L'innovazione della DS4 passa però inevitabilmente anche attraverso gli ADAS e la sicurezza di guida. Tra i sistemi del DS Drive Assist 2.0 sono presenti il rilevamento notturno di pedoni animali fino a 200 metri davanti alla vettura, lo scan attivo del manto stradale tramite una telecamera montata sul parabrezza che comunica in tempo reale alle sospensioni quali sono i settaggi più adatti per assorbire le asperità del manto stradale stesso, ma anche l'extended head-up display, quindi una proiezione di informazioni in realtà aumentata sulla strada, ad una distanza di circa 4 metri dagli occhi del guidatore, quindi molto molto sicura per non fargli mai distogliere lo sguardo dalla guida. Concludendo parliamo un po' delle motorizzazioni. Sono disponibili versioni classiche benzina, PureTech da 130 e 180 cavalli, BlueHD diesel da 130 cavalli, ma stiamo parlando di un'auto che è costruita sulla piattaforma EMP2, dove la E per questa piattaforma modulare sta per, se vogliamo, la possibilità dell'elettrificazione. Sarà disponibile infatti la DS4 E-Tense, la versione plug-in hybrid, quindi quella che si collega alla spina di corrente se vogliamo per ricaricare un piccolo pacco batterie che permetterà alla vettura di percorrere circa 50 km di autonomia secondo il ciclo VLTP dichiarati dalla casa, con nessun compromesso per quanto riguarda la capacità di carico del baule perché il pacco batterie non andrà ad invadere quella zona. Parliamo di una potenza complessiva accumulata di 225 cavalli, sprigionati rispettivamente dal 4 cilindri termico da 180 cavalli e dal motore elettrico da 110 cavalli. La DS4 E-Tense, insieme alle versioni benzina e diesel totalmente termiche, è solamente disponibile con il cambio automatico EAT8. Trovate tra l'altro qui in alto nelle schede un nostro video focus riguardo il funzionamento di questo cambio del gruppo PSA. Ora però prima di salutarci voglio sapere quelli che sono i vostri pensieri qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, se l'auto vi attrae, fatemelo sapere anche con un like come fare per stare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e non dimenticate di cercarci praticamente ovunque su internet digitando semplicemente wedrive.tv Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche, Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche, Iscrivetevi al nostro canale, ubriamo apprise,